Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore continua la scia di successi del grande professionista Fabio Fazio e del programma Che Tempo Che Fa Che Conduce Stiamo parlando di uno dei conduttori più amati e chiacchierati del piccolo schermo che ogni settimana intervista grandi personaggi dello spettacolo, della politica, della medicina o di qualunque altro essi si siano distinti Riconfermato anche quest'anno dopo la lunga trattativa che ha avuto con gli azienda per il rinnovo del contratto per la gioia dei suoi tantissimi fan Se però di lui sappiamo tanto PR quanto riguarda la sua professione e i suoi grandi successi lavorativi, di lui sappiamo pochissimo per quanto riguarda la sua sfera privata visto che questo professionista del piccolo schermo è piuttosto resti a concedersi al mondo del gossip Quello che però sappiamo è dove vive.L' abitazione di Fabio Fazio è splendida Si trova in Liguria, più precisamente NL comune di Celle e Ligure, Savona, e si tratta di una vera e propria magione attorniata da olivi e che si estende per circa 7 ettari di terreno È circondata da lati alberi che proteggono la vista da occhi indiscreti e garantisce la privacy La villa è fatta di 13 vani e comprende due mini appartamenti per gli ospiti La casa è immersa nel verde e da una bellissima piscina.È lo stesso Fabio Fazio, come egli ha rivelato in una recente intervista, a occuparsi in prima persona dell'abbellimento della sua casa ormai da più di 15 anni Il segreto della bellezza dell'abitazione e del conduttore più amato di Rai 3? Come il grande Fabio Fazio ha rivelato in un'intervista di poco tempo fa a Dad, la casa perfetta è semplicemente come deve essere, compresa le imperfezioni Essa deve risultare dal pensiero del proprietario che poco a poco si concretizza In questa splendida dimora il conduttore vive con la moglie Gioia Selis e i suoi loro due figli, Michele nato nel 2004 e Carolina nata nel 2009 Grazie a tutti Grazie a tutti Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente